Signor Presidente, noi oggi discutiamo di un decreto sull'emergenza abitativa, sull'emergenza casa e le segnalo che il Presidente del Consiglio, che non è qua all'approvazione del suo decreto, è in campagna elettorale ed è a Bergamo a sostenere un candidato sindaco che ha un contenzioso aperto per un abuso edilizio con il Comune di Bergamo. Quindi se il buongiorno si vede dal mattino della GAF del Presidente del Consiglio prendiamo atto che nel prossimo provvedimento ci aspettiamo un bel condono edilizio in modo che chiariamo una volta per tutte qual è il concetto dell'emergenza casa per il Partito Democratico. Partito Democratico che si presenta sempre come il Partito delle Vergini, peccato che settimana scorsa abbiamo votato l'arresto di un esponente di quest'Aula del Partito Democratico, l'Onorevole Genovese, e dal signor Penati fino ad arrivare all'Usi, al signor Gori e al suo contenzioso edilizio mi pare che la storia ci racconti di un partito che di problemi con la giustizia e con l'illegalità ne abbia parecchie, al di là della verginità che cercano di raccontare o che cercano di far apparire. Questo è il dato di fatto. E il Presidente del Consiglio è in campagna elettorale a raccontarci che loro stanno facendo. Io vorrei ricordare a tutti quanti una bella conferenza stampa di Matteo Renzi, dove doveva raccontarci delle coperture che avrebbe trovato per i provvedimenti da portare in quest'Aula. Tutti si aspettavano una minuziosa e dettagliata relazione sulle coperture. Invece lui ci ha detto che a febbraio sarebbe stata fatta una riforma, a marzo un'altra riforma, ad aprile un'altra riforma, a maggio un'altra riforma ancora, dal fisco alla giustizia, alla pubblica amministrazione, alla scuola. A oggi, siamo a maggio, non è stata fatta una beata riforma. Zero al quoto, zero totale, non c'è nulla, encefalogramma piatto. L'unica cosa che ha fatto il Presidente del Consiglio è un bel caos totale sulla tassa, sulla casa. Prima l'Imu, poi la Tasi, poi la Tari, poi la IUC. Non si capisce neanche come si chiama e oggi sui giornali apprendiamo che alcuni comuni pagheranno subito, altri pagheranno tra qualche mese, quindi sostanzialmente la tassa sulla casa si pagherà in 8.000 modi diversi. Serviranno i dottori commercialisti per sapere quanto si paga sulla tassa sulla casa, perché ogni comune avrà un momento e un'aliquota diversa per pagare la casa. Quindi un caos totale. E lo dico perché il Presidente del Consiglio, quando faceva il rottamatore, sembrano decenni fa, ma era solo qualche mese fa, ci aveva detto che lui metteva da parte la politica pasticciona. La politica pasticciona aveva una tassa che si chiamava Imu. Bella o brutta che fosse, noi l'avevamo abolita, qualcuno l'ha rimessa. Oggi non c'è più l'Imu, ma ci sono 8.000 tasse diverse dove, tra l'altro, si bloccheranno i consumi, perché siccome è una tassa particolarmente onerosa, il cittadino medio, che non sa quanto pagherà a settembre o a dicembre, non comprerà il frigorifero, non comprerà la lavatrice, perché non sa neanche quanto deve spendere e quanto dovrà pagare su questa beata tassa. Non ha nessuna prospettiva e nessuna certezza. Non c'è la minima chiarezza. Quindi oggi al carro rottamatore Renzi vorremmo chiedere chi è il pasticcione. Poi ha detto che, sempre quando faceva il rottamatore, che gli altri politici erano lenti. Beh, lui non mi pare un fulmine di guerra. Il Governo si è insediato da cento giorni e noi non abbiamo visto nessun provvedimento. Neanche il fantomatico provvedimento degli 80 euro è arrivato in quest'Aula. L'encefalogramma è piatto. Oppure, se vuole, se prendiamo le dichiarazioni da campagna elettorale del signor Renzi, ci verrebbe da dire che invece che l'encefalogramma è piatto, pare abbia l'encefalopatia spongiforme, aglia smorbo della mucca pazza, perché dice tutto il contrario di tutto in termini di promesse elettorali. Altra cosa, ha detto che l'economia sarebbe finalmente decollata, che si vedevano spiragli di ripresa. Bene, i dati ISTAT, Istituto Nazionale di Ricerca, ci dice che il PIL è in calo ancora una volta nel quarto trimestre dello 0,1%. Siamo ancora in recessione. Quando? In Germania è più 2,3. In Francia più 0,8. In Gran Bretagna 3,1, più ovviamente. Negli Stati Uniti 3,1 ancora, più ancora. E nell'Unione Europea la media è più 0,9. Oggi è arrivato il fenomeno Matteo Renzi, ma siamo ancora in profonda recessione. E la situazione è drammatica, perché ci sono gli imprenditori che si sparano, ci sono i pensionati che non hanno i soldi per arrivare alla fine del mese, ci sono i cassi integrati che nel documento di programmazione economica non avete neanche rifinanziato. Quindi c'è il dramma, se non interverrete nei prossimi giorni, di come finanziare la gente che è in cassa integrazione. Ci sono i nostri disoccupati, ci sono le aziende che chiudono, ma voi vi preoccupate soltanto di far campagna elettorale con una prospettiva di essere gli zerbini dell'Unione Europea. Per quale motivo? Perché sempre Rottamatore Renzi ci disse che i politici sono vecchi fino a qualche mese fa. Peccato che lui è qualche decennio che è in politica. Però io registro che il Partito Democratico, per queste elezioni europee, sostiene il candidato tedesco che si chiama Schulz, che è in politica dal 1974. Il sottoscritto che sta parlando è nato nel 1975. Cioè io sono nato quando Schulz era già in politica. E oggi Renzi cosa ci racconta? Che lui è il nuovo e quegli altri sono i vecchi. Sostiene uno che è in politica dal tempo dei mammut. Eppure lui è il nuovo. Questa è la posizione politica che è oggi il Partito Democratico. E nelle piazze racconta, dichiarazione di ieri, che questa Unione Europea non va bene, va cambiata. E ovviamente per cambiarla sosteniamo un esponente tedesco del 1974 che è rappresentante di quel Paese che chiede al nostro Paese gli sforzi più in mani possibili, immaginabili e ha messo in ginocchio la nostra economia. E veniamo al provvedimento. Nel provvedimento in oggetto voi togliete 500 milioni di euro dal Fondo per le infrastrutture. Registro che i pendolari sui treni continueranno a essere su treni fattiscenti. Registro che la sicurezza delle strade va a farsi benedire con le relative stragi sulle strade insicure e quant'altro. Ma quello che a noi fa specie è che voi date questi soldi per l'edilizia popolare. Ci saremmo aspettati che in un provvedimento come questo, in un momento di crisi economica drammatica, venisse sancito a care lettere che queste edilizie popolare andasse ai cittadini italiani, che siano essi sardi, pugliesi, lombardi, veneti, siciliani, quello che volete voi, ma prima i cittadini italiani. Invece, come al solito, con questo provvedimento l'edilizia popolare andrà agli immigrati. Noi ci troviamo nel paradosso assurdo che fate una missione di 200 milioni di euro, non ci sono i soldi neanche per piangere, ma trovate 200 milioni di euro per andare a prendere i clandestini sul bagno asciuga delle coste africane. Li portate qua, nel nostro Paese, e poi gli date 47 euro al giorno. Conviene fare il clandestino, invece che il pensionato. Gli date 47 euro al giorno, vitto e alloggio, e adesso gli paghiamo anche la casa. Ma lei lo sa, signor Presidente del Consiglio, che i cittadini italiani, anziani o soprattutto le giovani coppie, fanno 25-30 anni di mutuo per pagarsi la casa. Non gli viene regalata dallo Stato o gli viene pagata come nel caso degli immigrati. E notizia di oggi, a Livorno, dove amministra ampiamente il Partito Democratico, sono arrivati oltre 100 clandestini, leggo testualmente. Sono stati infatti alloggiati, su ordine della Prefettura, in cinque alberghi. Gli hotel livornesi, dai nomi non sono hotel di scappati di casa, sono anche hotel, basta leggere i nomi, l'Ariston, il Città, l'Imperiale, il Giappone, il San Vincent. Alberghi da 90 euro al giorno, basta prendere booking, se andate a guardarvi quanto costano questi alberghi, sono 90 euro al giorno. E chi paga? Pagano i cittadini di questo Paese, pagano i cittadini italiani. Per quale motivo? Perché non avete il coraggio di fare i respingimenti. Le do un dato, signor Presidente. Il ministro degli interni spagnolo ha dato i dati degli sbarchi del 2013. In Spagna gli sbarchi nel 2013 sono stati 3.250. Nel nostro Paese, con il ministro Alfano e il governo Renzi, la maggioranza del governo Renzi, gli sbarchi sono stati 44.000. Perché? Perché questo governo vuole accoglierli tutti. E oltre che dargli questi soldi, adesso gli costruiamo anche la casa. E la cosa più indegna, signor Presidente, è che agli italiani disabili vengono dati esattamente 12 euro al giorno. Ai disabili 12 euro al giorno, agli immigrati clandestini che arrivano qua, 47 euro più vitto e alloggio. Questi sono i provvedimenti di questa maggioranza di questo governo. Per questo noi voteremo convintamente contro, perché per noi, prima e soprattutto in un momento di crisi, vengono i cittadini italiani di ogni regione, ma prima la nostra gente, poi tutti gli altri.